Patrizia Fanelli là a San Giovanni Rotondo per respirare il clima di oggi e le tante persone che sono lì per San Pio. Buonasera Cristina, buonasera a tutti. Sì, siamo sul sagrato della chiesa, della nuova bellissima chiesa dedicata a San Pio. Qui ieri sera 11.000 persone, come abbiamo visto, hanno atteso l'ore in cui, 48 anni fa, morì San Pio da Petralcina. Vicino a me c'è padre Luciano Lotti che è stato battezzato da San Pio e ci spieghi perché proprio qui in questo punto tante persone ogni anno da 48 anni si ritrovano. Siamo in un punto di quelli tra i più suggestivi perché qui dove voi vedete questa bellissima costruzione una volta c'era solo un prato e nello scosceso una casa colonica ma qui la gente si raccoglieva per dare l'ultimo saluto a padre Pio ogni sera perché di fronte c'era la finestrella cui padre Pio si affacciava e salutava la gente con un fazzoletto. Qui la sera del 22 settembre le persone hanno dato l'ultimo saluto a padre Pio prima della sua morte. Fra Luciano, ma la sua denuta qui è stata particolare, suo papà infatti, che cosa è successo a suo papà? Faceva un lavoro? Sì, mio padre era militare di Bologna, era venuto qui tante volte da padre Pio, venne per salutarlo perché doveva partire per la guerra, per la Grecia e padre Pio gli ha detto scommettiamo che se non parti per la Grecia devi fare qualcosa per me. Mio padre disse va benissimo cosa devo fare e padre Pio ha chiesto senti se non parti per la Grecia devi fare in medico. qui tu vedi solo montagna ma fra un po' ci sarà un grande ospedale, ho bisogno di medici e difatti poi mio padre è stato 40 anni primario qui di pediatria nell'ospedale di Casa Solievo della sofferenza. E allora uno dei frutti proprio di padre Pio è stato... Patrizia, scusami, ti fermo, ritorniamo tra pochissimo con il...